Intanto solo che volevo mettere anche un supporto così era più semplice Allora, io vi presento, sono un certo Ferrante se mi fosse presentato qualche anno fa avrei detto tranquillamente che sono un tecnico però vedi i tempi che corrono poi aggiungo anche che sono, che vengono al settore assicurativo quindi immaginatevi Poi diventerete, adesso voi si dice, mani in alto, questa è rapida però non mi andranno perché con la crisi che c'è non riuscire neanche a pagare la prima semestralità della bocca con quello che raccogliono Allora, io sono qui per spiegare la parte, diciamo, delle nostre proposte le proposte che sono state presentate già tempo fa in piena campagna elettorale noi siamo usciti con sei punti sei punti che secondo noi servono per dare la scossa per dare la scossa al settore assicurativo sei punti semplici perché normalmente noi siamo stati sempre legati al concetto di protesta e volevamo un attimo spiazzare tutti e dire dalle proteste passiamo alle proposte è chiaro che non sono proposte di legge sono dei punti nei quali andiamo a evidenziare in che cosa vogliamo intervenire l'abbiamo fatto durante la campagna elettorale senza prevenzione alcuna di nessuno perché a noi non interessa assolutamente se un partito ci dice di sì o di no a noi interessa che il Parlamento, che adesso è insediato, possa discutere finalmente di RCA in maniera seria quindi chi c'è, c'è siamo partiti con questi punti prima di esporli volevo fare una premenza perché c'è anche un attimo da capire cosa è avvenuto nell'ultimo anno cioè non è che non si è fatto nulla nell'ultimo anno nel settore assicurativo possiamo discutere se si è fatto bene, se si è fatto in maniera sufficiente se si è intervenuto come intendiamo noi che si intervenga questo sicuramente non è avvenuto però qualcosa è accaduto ritornato indietro il tema RCAuto in Italia è stato sempre vissuto come un tema privato il cliente scopre quanto deve pagare la sua bonita si arrabbia, urla, torna a casa e finisce lì e se vai vicina la moglie però ecco, questa arrabbiatura è arrivata ed è successo fino agli ultimi anni quello che è scattato negli ultimi due anni è stato finalmente un senso collettivo di ribellione nei confronti di quello che stava accadendo in maniera diffusa associazioni di consumatori, cittadini associazioni in genere, movimenti hanno finalmente, finalmente posto il problema il problema non era più un problema privato risolto dal singolo cittadino che semmai cambiando la residenza risolveva il suo problema diciamoci ma finalmente c'è stata una seduccia forte anche perché le compagnie degli ultimi tre anni hanno fatto di trette massive hanno chiuso punti vendita in buona parte del sud e hanno portato le tariffe a livelli stellari quindi era il minimo che ci si organizzasse abbiamo messo un po' di tempo ma ci siamo organizzati tanto è vero voglio ricordarlo qui accortando pure che ci sono gli amici di MoBast insieme abbiamo proposto abbiamo fatto firmare centinaia di migliaia di cittadini una petizione al Parlamento Europeo con i tempi burocratici del Parlamento Europeo con i tempi burocratici ma questa petizione è stata accettata è rimasta aperta cioè ciò che noi abbiamo detto insieme portando le prove andando a parlare nel Parlamento sono delle cose di raggi oggettivi ciò che era accaduto e che stava accadendo in buona parte nel territorio meridionale collegandoci anche al discorso che non è solo l'Italia meridionale perché noi in Italia paghiamo l'RCA o non più alta d'Europa e del mondo quindi non è che se io sto in una regione se il Mario e pago la metà del premio della voletà non mi sento salvo no, pago molto di più rispetto agli altri cittadini europei scaravanticamente non è un quattro ci sarà un altro incontro il 24 a Bruxelles dove abbiamo presentato dei documenti per sentiremo dei documenti nei quali continueremo a insistere che noi vogliamo che si apra una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per quello che hanno combinato ritorniamo a quelle che sono state invece le discussioni fatte l'anno scorso governo, associazioni, cittadini, parlamentari rappresentanti intermediari hanno chiamato le compagnie e hanno detto qual è il problema? cosa dobbiamo fare per risolvere il problema? sono uscite una serie di motivazioni e io vi dico la prima cosa che hanno detto le frodi gli imbrogli e quant'altro hanno fatto un elenco le compagnie hanno detto se fate se accoggiate se approvate questi punti noi noi possiamo abbassare le tassi i decreti cresci del sviluppo dell'anno scorso in effetti hanno contestato all'80% quello che erano quelle che erano le richieste delle compagnie di contro hanno portato dei vantaggi a noi cioè oggi nel 2013 se io vado da una compagnia assisto a uno strano fenomeno strano fenomeno che non vi è più il vecchio aumento che ci siamo abituati a vedere in ogni rinnovo troverete che ci qualche ritocco qualche piccolo scuso bene il risultato non ci basta non ci basta allora noi vogliamo intervenire con delle proposte che varano nel segno della trasparenza della legalità e dell'equità primo punto che abbiamo messo ripeto non sono proposte di legge chiaramente ma poi articolato però mettiamo il titolo l'obbligo da parte delle compagnie di comunicare le statistiche in base alle quali calcolano la tariffa ed il premio per provincia di residente mi devi dire in base a quali dati che riguardano te e compagnia tu mi hai calcolato il premio se lo devi dire e questa cosa non è un'invenzione nostra il cittadino che si è arrabbiato lo ha detto anche il terreno si ruppo economico quando è interpretato il famoso emendamento che riguardava la tariffa unica cancellandolo però aggiungendo che era giusto che le compagnie diventassero più trasparenti a noi il consiglio del ministero lei che interessa lei che interessa lei che interessa tu devi dirmi per quale motivo io pago più di un milanese tanto per fare un esempio tra grandi città anche perché è assurdo che il cattivo guidatore di Milano paghi di meno del miglior guidatore napoletano o anche di Foggia o anche di Taranto perché il problema è diffuso noi siamo l'iceberg fondamentalmente la punta è l'iceberg ma fondamentalmente riguarda legalità partiamo dal presupposto l'abbiamo sempre detto perché purtroppo ogni volta che iniziamo un discorso dobbiamo sempre fare la peghierina noi siamo contro le frode per noi chi froda deve andare in galera non li vogliamo vedere perché quando frodano inguaiano noi perché le compagnie riversano sulle tariffe delle loro efficienze quindi maggiori pene per chi froda che sono 2 anni 5 anni maggiori anni sì basta detto un discettivo perché quello che fa poi che crea più danni è anche il piccolo imbroglio lo stupido imbroglio fatto perché si pensa va bu tanto paga l'assicurazione lo dico in napoletano perché sono napoletano ma viene fatto in tutti i dati chiariamolo qui aumentano il depilio ridurre a 15 giorni la prescrizione non c'è il dito chiaramente fatti tali casi nei quali c'è rimancato una gran identificazione del veicolo sui tempi tecnici c'è il fedito o altro ma è un fenomeno di gente che lascia una compagnia e entro due anni manda una cadena di devo c'è il sinistro non va bene se accade il sinistro accade me ne accorgo basta non è che ci penso poi dopo due anni divieto di gestione del prezzo assicurativo in effetti è il fenomeno nel quale il cliente che ha diritto al risarcimento c'è il diritto a rispondere lì c'è una zona grigia ma non è il piccolo carrozziere che prende la cortonelli ci sono organizzazioni nazionali che acquistano fior fior di sinistri e ci guadagnano sopra e paghiamo noi allora io cittadino e sono messo e voglio essere rispettato voglio che si ritolvano anche questi problemi perché alla fine pago io sono io approvazione rapida dei decreti attuativi ancora fei vi dicevo decreto crescita e sviluppo provvedimenti che hanno introdotto anche il concetto di notacito rinnovo che sta creando concorrenza io all'inizio ero perplesso sta creando concorrenza ma ci sono dei provvedimenti raramente quelli che riguardano i consumatori raramente che devono ancora essere disciplinati da dei decreti attuativi si faccia presto scatola nera tagliandino elettronico mandiamo subito diamo un segnale a chi governerà il tipo di problema è anche quello ma insomma alla fine si deve rendere la norma finalmente attiva cioè farla entrare a pieno titolo del nostro ordinamento ultima equità no equità eh equità eliminazione della differenziazione geografica per assicurare gli esenti da finissi negli ultimi cinque anni basta basta lo mettiamo per legge poi si discute se l'Europa ci rompa l'estate si discute l'Europa sta già parlando di noi quindi può essere che quando arriva qualche mostrante tra qualche compagnia voi dici ah sì ma voi siete voi credenti che state combinando quel po' quindi vogliamo che per legge chi è virtuoso sia rispettato non possiamo dimandare alle politiche commerciali e alle compagnie che ci scelgono che ci fanno lo sconto non è possibile che io a parità di condizioni soggettive oggettive debba pagare il doppio di un cittadino italiano lo vogliamo per legge con questo io concludo il mio intervento da testico dell'assicurazione mi dica allora io avrei due cose da dire che mi aspettavo da un testico perfetto prima di tutto come in America non è stato più logico avere l'assicurazione personale perché io non posso guidare se ho due tre macchine mi hanno equito tutto insieme sono sempre io che guido poi un'altra cosa molto importante molte compagnie assicurative hanno fatto una cosa molto sporca di prendere le persone che magari hanno 5 10 15 anni che non facevano l'incidente le hanno unilaterale che c'è il contratto senza motivo e le hanno detto se vuoi di nuovo il contratto con noi diventerà nell'ultima categoria questo ultimo esempio è quello che ha fatto scatenare quello poi che è successo le denunce che abbiamo fatto adesso con notacido rinnovo non accade proprio questo ma il concetto è sempre quello tariffa buona mi mandi via quando esco mi trovo sul mercato della rinferivata il primo punto anch'io sono d'accordo sulla personalizzazione parlo a livello personale il problema è che quando si ha un quadrappo dei 6 propost era non per fare la riforma del bonus malus che è necessaria è necessaria era per incominciare a introdurre dei punti veloci veloci è chiaro che si debba fare una riforma più articolare tanto è vero che in discussione una serie ma qua parliamo di persone veramente detettiche e non solo delle compagnie dei dettici che stanno discutendo proprio la riformulazione del bonus malus la vera personalizzazione del premio e il parametro residenziale a quel punto diventa un piccolissimo una piccolissima aliquota che fa aumentare un 2% rispetto ad un'altra città perché questo è il differenziale tra una grande città e l'altra quindi noi quando abbiamo pensato ad esempio parlo di vince abbiamo pensato qualcosa di semplice e veloce non è la riforma risolutiva alla quale ci dobbiamo anche arrivare e noi non è che siamo lontani dal tavolo anzi noi possiamo portare le istanze di una serie di movimenti di una serie di persone che sono a favore di una serie di formali del sciato a noi chi? noi tutti insieme adesso vedremo no? chi è a Cristiano il comitato io adesso concludo perché così gli interventi sono da fare anche sul parco non voglio parlare solo io te lo scuso un'ultima cosa se uno fa un incidente fa un sinistro del tipo sgrampio la fiancata a uno senza fare nessun ferito non può essere ferito sullo stesso piano di uno che combina un guaio con morti e feriti quindi io mi aspetto che le compagnie cominciano a pensare anche ad una differenziazione nei sinistri chi fa un danno viene e chi fa danni clavi perfetto non sono raccordissimo ripeto dai sei punti non era possibile intervino passo la parola a Gianni Bianco grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti